bonsoir signore e signori io sono monsieur Matteo Sorbellini e colgo l'occasione per farvi entrare in 10 secondi nel mio meraviglioso mondo benvenuti in diretta nella window del Viper Room di Riccione vi aspetto qua in negozio in galleria Paracongressi per emozionarvi con abiti disegnati direttamente da me. Fantastiche feste a tutti!